Buonasera, lo avete sentito nei titoli, sono stati chiesti otto anni di condanna per l'ex presidente del tribunale Gianfranco Boccalate nell'ambito dell'inchiesta del processo d'appello che lo vede imputato a Torino per peculato, corruzione, falso, millantato credito e abuso d'ufficio. I particolari in un servizio, sentiamo. I PM torinesi Giancarlo Venati Bassi e Marco Gianoglio hanno chiesto ieri dopo una lunga requisitaria otto anni di condanna per Gianfranco Boccalate, ex presidente del tribunale di Imperia e Sanremo. Secondo l'accusa Boccalate sarebbe stato l'epicentro del sistema che piegava la giustizia secondo gli interessi propri e dei suoi conoscenti. L'ex presidente è stato accusato di peculato, corruzione in atti giudiziari, falso, millantato credito e abuso d'ufficio. Tra gli altri imputati del processo sono stati chiesti dalla procura 4 anni per Pietro Benza, elettricista di fiducia di Boccalate, 8 mesi per l'edicolante Angela Salvai, 5 anni per l'avvocato Antonio De Felice, 4 anni e 4 mesi per l'ex cancelliere Massimo Capurro e ancora un anno per il notaio Antonio Marzi e un anno e mezzo per l'architetto di Ventimiglia Riccardo Amedeo Bosio. Nella prossima udenza del processo di appello ci saranno le arringhe degli avvocati difensori. La sentenza dell'appello potrebbe quindi arrivare prima dell'estate. Boccalate in primo grado nel 2011 era stato condannato a 3 anni. Dopo un controllo effettuato dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Savona è stata combinata ad un agente immobiliare con studio a Loano una sanzione complessiva di 690 mila euro per non aver rispettato gli obblighi di legge. Da quanto emerso nel rilievo delle forze dell'ordine infatti il titolare dell'agenzia non avrebbe provveduto alla verifica delle generalità dei clienti e alla registrazione delle operazioni effettuate. Primo respingimento di massa questa mattina alla frontiera di Ventimiglia per 50 immigrati irregolari sorpresi in Francia e riammessi in Italia. Per evitare che gli immigrati si fermassero a Ventimiglia come disposto dal ministro Angelino Alfano sono stati tutti trasferiti in Pullman in un centro di smistamento a Genova. Sentiamo. Questa mattina al valico di Ponte San Luigi alla frontiera di Ventimiglia è stato effettuato un primo respingimento in blocco di 50 profughi irregolari. I migranti in prevalenza sudanesi afghani sono stati fermati dalla polizia di frontiera italiana e da quella francese a Mentone nei pressi dei principali vallichi tra cui quello della ferrovia e sono stati accompagnati su due Pullman diretti a Genova dove si procederà all'identificazione e al successivo smistamento in centri d'accoglienza o in alternativa al rimpatrio. Sono in media 20 o 30 i respingimenti fatti dalla Francia all'Italia giornalmente. Il primo di massa però oggi dopo la chiusura del centro d'accoglienza deciso dal ministro dell'interno Angelino Alfano è avvenuto per evitare che i migranti si fermassero proprio a Ventimiglia. Nuovi respingimenti di questo tipo si potrebbero verificare in caso ci fosse un incremento dei flussi migratori. Il valico frontaliero di Ponte San Luigi è rimasto chiuso al traffico per più di due ore, dalle 8 e mezza circa alle 11 ed il traffico è stato deviato verso il ponte San Ludovico. Maxi il sequestro della polizia municipale di Sanremo in un locale di via Arnaldo da Brescia. Gli agenti hanno scoperto un magazzino usato come punto d'appoggio e base di stoccaggio di merce contraffatta. Il blitz ha portato al sequestro di 700 pezzi di false griffe tra borse, orologi, portafogli, cinture ed altri accessori. Tre senegalesi di cui due muniti di irregolare permesso di soggiorno sono stati denunciati. Per lo straniero clandestino è scattato anche un decreto di espulsione. È stato anche individuato il proprietario dello stabile. Si stanno ora conducendo accertamenti sul contratto di locazione, sulla tipologia dello stesso e sui sistemi di pagamento. E si valuterà inoltre, di concerto con l'ASL, l'idoneità dell'alloggio in questione. L'ammiraglio Giovanni Pettorino, direttore marittimo della Liguria, ha compiuto oggi un'ispezione alla Capitaneria di Porto d'Imperia. L'alto ufficiale ha evidenziato i vari compiti delle capitanerie, non soltanto legati alla stagione turistica estiva. Vediamo. Ammiraglio, come mai questa visita qui ad Imperia? Un'ispezione che rientra per carità nel piano di collaborazione, di coordinamento anche della Guardia Costiera sul territorio. Qual è la situazione che ha trovato? Allora, intanto il mio ruolo è quello di comandante del porto di Genova. In questo momento sono anche commissario straordinario dell'autorità portuale, ma insieme all'incarico di comandante della Capitaneria di Genova ho anche quello di direttore marittimo. Il direttore marittimo è il comandante regionale, quindi da me dipendono le capitanerie di Imperia, di Savona e di La Spezia e in questa veste oggi sono qui, cioè come comandante regionale in visita di ispezione ad un ufficio dipendente. Questo per mantenere quel necessario coordinamento tra gli uffici della Guardia Costiera, delle capitanerie, che operano sui 330 chilometri di Costa Ligure. Ecco, abbiamo visto che c'erano anche in precedenza gli operatori portuali in questo incontro con lei, quindi diciamo che è comunque un occhio attento sulla realtà portuale del territorio. Sì, su tutte le realtà marittime e portuali. Noi come Capitaneria e Guardia Costiera siamo deputati al controllo e alla verifica e ad assicurare che tutte le attività relativi agli usi civili del mare vengano svolte in massima sicurezza, in maniera ordinata e coerente alla legge. In questa veste ovviamente ci preoccupiamo, qui ad Imperia, l'autorità marittima e anche l'autorità portuale, delle problematiche legate al porto. Esiste una compagnia, un articolo 16 e un articolo 17 che offrono servizi portuali in un porto dove ormai il traffico commerciale è praticamente scemato, quindi esistono problematiche di occupazione e di prospettive future. I carabinieri della compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto un quarantenne romeno pregiudicato per furto. L'uomo, già sottoposto alla misura del divieto di dimora nella provincia d'Imperia, è stato sorpreso dopo che aveva rubato alcuni prodotti in un supermercato di Taggia da un carabiniere della stazione di Santo Stefano al mare, libero dal servizio. Lo straniero è stato poi rimesso in libertà con l'obbligo di lasciare il territorio provinciale. E cambiamo argomento, in regione è stato presentato il dossier RAE 2015 sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il documento è stato illustrato dall'assessore all'ambiente al ciclo dei rifiuti Giacomo Giampedrone e dal direttore generale del centro di coordinamento RAE Fabrizio Longoni. L'assessore Giampedrone ha fatto anche il punto sulla situazione in Liguria, sull'andamento della raccolta differenziata e sul ciclo dei rifiuti nel suo complesso. Sentiamo. Questo è un obiettivo importante che raggiungiamo e che ha un incremento nel 2015 del 5%, quindi raccogliamo molto positivamente. I RAE sono una piccola nicchia dei rifiuti, tutto il resto ovviamente, soprattutto l'organico, è la nostra battaglia che con la legge che abbiamo approvato nel mese di dicembre. Abbiamo ovviamente iniziato a combattere per cercare di arrivare a quel meno 45% di raccolta differenziata che ci consenta di stare allineati con il resto delle regioni d'Italia. Oggi la situazione dei rifiuti in Liguria è una vera e propria emergenza. Noi stiamo rinnovando col Piemonte la trattativa per poter portare fuori provincia rispetto a Genova i nostri rifiuti, ma questo costa tantissimo per i cittadini Liguria e soprattutto per i cittadini genovesi. La legge impone un primo obiettivo che sarà valutato alla fine del 2016. Dal 1 gennaio 2017 chi non avrà raggiunto gli obiettivi di recupero che sono del 45% per tutti i comuni della Liguria e del 40% per Genova, visto la complessità della città, inizierà ad avere un aggravio e quindi una penalizzazione che verrà ridistribuita peraltro sul mercato della differenziazione dei rifiuti per cercare di incrementare tutto il sistema di 25 euro a tonnellata per il differenziale non raggiunto. Io mi auguro e auspico di non dover applicare nessun tributo aggiuntivo a nessun comune, credo che la svolta si stia iniziando a vedere soprattutto nei comuni medi dai 15 mila abitanti in giù. Genova deve fare un salto di qualità ma Genova lo deve fare anche perché il 33% di media di raccolta differenziata finora raggiunta è una cifra veramente che non ci fa stare allineati con il resto delle regioni italiane e soprattutto che non mi consente di continuare a trattare con le altre regioni del nord per portare fuori i nostri rifiuti. Emergenza va bene, ma emergenza può essere un anno, sei mesi o massimo due anni, non può certo essere dieci anni e quindi anche gli altri presidenti di regione iniziano da questo punto di vista a essere un po' più rigidi nell'accogliere i nostri rifiuti. Se noi invece innescheremo una serie di politiche innovative e importanti in questo senso, credo che per tutto il resto e cioè per il tal quale che continuerà a andare fuori regione perché ormai la politica della termovalorizzazione in Liguria economicamente non rende più, è una scelta che andava fatta negli anni passati, continueremo come peraltro il decreto del governo sta dicendo a trattare con le altre regioni del nord che hanno invece un'adeguata impiantistica anche di termovalorizzazione. Per quanto riguarda la raccolta l'AE, la Liguria è una delle regioni di eccellenza italiane, quindi la raccolta avviene in maniera più che sufficiente, supera la media nazionale, arriva a 5,31 kg per abitante che è un risultato sicuramente buono. C'è stata una crescita di alcuni punti percentuali rispetto all'anno passato e questo ci fa soprattutto ben sperare per una crescita anche nel futuro visto che gli obiettivi europei sono estremamente più elevati rispetto allo stato da cui si parte oggi. Diciamo che in regione si sta verificando l'esatto fenomeno che abbiamo in tutta Italia, cioè un raggruppamento che era quello delle televisioni comincia dopo anni di grandissima raccolta per lo smaltimento del televisore a tubo catodico a decrescere nelle quantità raccolte, mentre sono effettivamente in crescita i raggruppamenti che riguardano la parte freddo, frigoriferi, condizionatori e la parte dei grandi bianchi, anche se non con i volumi che dovrebbero effettivamente arrivare. Stenta come sempre la raccolta dei piccoli elettrodomestici, quelli che vengono raccolti in un raggruppamento identificato con il numero 4, che in tutta Europa in realtà stentano a raccogliere sufficiente quantità, sono il raggruppamento che ha più immesso di mercato in assoluto e su questo la regione sicuramente può fare di più perché è indietro rispetto agli altri raggruppamenti. Diciamo che in Italia siamo sicuri che mancano rispetto alle 250.000 tonnellate complessive raccolte 500.000 tonnellate, almeno di raccolta. Non fa eccezione la regione Liguria, dove una dispersione comunque di questi rifiuti esiste ed è proprio l'ambito di andare ad aggredire per incrementare la raccolta e raggiungere gli obiettivi nazionali. Una maggiore attività da parte sia dei comuni con la raccolta verso i cittadini, sia della distribuzione con la raccolta fatta per i consumatori che possono fare lo scambio uno contro uno o tra poco anche l'uno contro zero, favorirà sicuramente una minore dispersione e un aumento della raccolta differenziata. Ieri sera a Savona la polizia ha tratto in arresto un 23enne ed un 19enne, rispettivamente di origini magrebine e un italiano, trovati in possesso di quasi un etto di hashish. I due che erano a bordo di un furgone sono stati individuati grazie alla segnalazione di alcuni cittadini che, insospettiti dal loro atteggiamento, hanno subito chiamato il 113. Prima la presa in possesso da parte del comune di Sanremo a febbraio delle aree edemaniali occupate abusivamente da anni dalla società Cantieri Navari SRL, poi un incontro tra le parti a marzo durante il quale è stato raggiunto un accordo circa lo sgombro delle stesse, infine ieri la formalizzazione dell'accordo con una delibera di giunta. Si chiude così la vicenda dei Cantieri Navari del Porto Vecchio Sanremese. Vediamo. Prima la presa in possesso da parte del comune a febbraio delle aree edemaniali occupate abusivamente da anni dalla società Cantieri Navari, poi un incontro tra le parti a marzo durante il quale è stato raggiunto un accordo transativo circa lo sgombro delle stesse, infine ieri la formalizzazione dell'accordo con una delibera di giunta. Il comune ha consentito far terminare le lavorazioni sulle imbarcazioni già presenti a febbraio 2016 o comunque oggetto di accordi entro la stessa data, soprattutto a tutela dei posti di lavoro degli addetti impegnati nei cantieri che avranno in tal modo la possibilità di mantenere l'occupazione per un anno ancora con la possibilità e il tempo necessario per ricolloccarsi sul mercato del lavoro. L'accordo nella sua parte sostanziale prevede l'obbligo della Cantieri Navari a liberare di ogni imbarcazione e da ogni altra attrezzatura gli scali di alaggio davanti alla zona dei baretti del porto entro e non oltre il mese di luglio 2016 e l'obbligo a sgomberare e a consegnare al comune di Sanremo entro e non oltre l'estate 2017 l'area del mollo diponente di Portovecchio. Il comune che si è riservato la possibilità di effettuare sopraluoghi nelle aree in qualsiasi momento e in caso di grave inontemperanza di provvedere immediatamente e senza alcun preavviso la ripresa coattiva delle stesse ha fissato penali per ogni giorno di ritardo rispetto agli accordi firmati e soprattutto ha vincolato l'accordo alla consegna di una fideusione. Inoltre con questo accordo transattivo, passaggio fondamentale nella riqualificazione di una zona ritenuta strategica dall'amministrazione comunale, si pone infine ad ogni contenzioso in atto e la Cantieri Navari rinuncia ad ogni azione legale nei confronti del comune. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ci vediamo tra poco con la seconda parte del telegiornale, parleremo anche degli interventi in tema di viabilità ad Imperia nell'area della nuova stazione ferroviaria. A tra poco. Seconda parte del telegiornale, parallelamente ai lavori per la realizzazione del raddoppio ferroviario, proseguono ad Imperia gli interventi sulla viabilità che interessa all'area circostante la nuova stazione ferroviaria. Vediamo. Proseguono a ritmo serrato ad Imperia i lavori per la viabilità nei pressi della nuova stazione ferroviaria. A pochi giorni dalla riapertura dell'argine sinistro, con lo stop alla circolazione che si era reso necessario per predisporre alcuni manufatti per realizzare le rampe di raccordo con il nuovo ponte sull'impero, dalla prossima settimana scatteranno alcune importanti novità concordate nei giorni scorsi in un summit in comune tra reti ferroviarie italiane e l'assessore ai lavori pubblici Guido Abbo. Dal 20 fino al massimo 24 maggio sarà nuovamente chiuso l'argine sinistro per completare la posa di una tubatura della Fogna. Poi dal 30 maggio scatterà la parziale chiusura dell'argine destro per rifare i muri di sponda in prossimità del nuovo ponte. Verrà istituito quindi un senso unico in direzione mare e dopo la conclusione delle scuole. Dal 13 giugno scatterà invece la chiusura totale al traffico necessaria per realizzare le rampe d'accesso al nuovo ponte. L'area apertura verrà poi a fine luglio. Purtroppo sarà inevitabile qualche disagio alla circolazione, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Guido Abbo, ma per non creare lunghe code abbiamo concordato con le ferrovie di far scattare la chiusura dell'argine destro dopo la conclusione delle scuole, quando il traffico è meno intenso. Terminati i lavori, sull'argine destro si passerà a realizzare le rampe sulla sponda sinistra verso fine agosto. Il comune d'Imperia, così chiesto e ottenuto dalle ferrovie, che per fine agosto sia aperta al traffico la bretella che collega l'argine sinistro alla rotonda dello svincolo autostradale d'Imperia Est. Anche in questo caso l'argine sarà chiuso per circa un mese e mezzo. L'incontro con RFI è stato anche l'occasione per parlare della rotatoria di Castelvecchio. Così come è stata realizzata e pericolosa per i mezzi pesanti, conclude l'assessore Abbo. Ne abbiamo avuto prova e abbiamo convinto RFI a modificare il progetto che ha realizzato, allargando l'entrata per i mezzi provenienti da Ponte d'Assio e modificando l'uscita verso il centro d'Imperia. Si è svolto questa mattina ad Imperia, nel posteggio senatore Amadeo di Piazza Ricci un sopraluogo congiunto, Comune, Imperia Servizi, Arte, per comprendere quali interventi siano necessari per riaprire l'area, chiusa in via precauzionale per un problema relativo all'autorizzazione da parte dei vigili del fuoco. Per quanto riguarda i tempi non sarà possibile riaprire in tempo il parcheggio prima che comincino i lavori in via Cascione, previsti a brevissimo. L'assessore ai lavori pubblici, Guido Abbo, ha confermato che sia difficile fare previsioni precise. Nel frattempo i cittadini potranno usare i parcheggi di via Benza e di piazza Mameli. I servizi innovativi proposti dall'Ufficio Provinciale del Lavoro d'Imperia per il collocamento mirato delle persone con disabilità e l'impiego delle risorse regionali ed europee in materia di lavoro sono stati oggi al centro di un incontro che si è tenuto nel Palazzo della Provincia. d'Imperia. Allo stesso tavolo il Presidente Fabio Natta e l'assessore regionale Gianni Berrino in servizio. L'Ufficio di collocamento mirato che fa parte dei centri di impiego della provincia d'Imperia che ha realizzato con il suo staff in collaborazione con due prestigiose aziende della nostra provincia la GDX Leclerc e la Amalia di Sanremo. Questa giornata il cui scopo è quello di creare è praticamente un colloqui di selezione, di formazione del personale, colloqui di lavoro simulati, ma fino a un certo punto perché poi in realtà è un vero e proprio colloquio di lavoro che si rivolge alle persone con delle disabilità per prepararle, allenarle anche a quelli che saranno poi i colloqui di lavoro veri che loro dovranno sostenere per cercare appunto un'occupazione. Quindi diciamo qualcosa che si avvicina davvero a un vero e proprio colloquio e con tutte le conseguenze che ci possono essere, quindi anche di preparazione per i colloqui poi quelli che saranno quelli reali, quindi con i suggerimenti che vengono e verranno da coloro che fanno il colloquio per preparare le persone poi a affrontare quelli che saranno poi colloqui che possono essere anche decisivi per la loro vita lavorativa. Io credo che sia stata, che sia un'iniziativa importante da parte dell'Ufficio di Collocamento Mirato che è un po' un'eccellenza del nostro ente e che desidero ringraziare con tutto il suo personale, dai dirigenti, ai funzionari, agli operatori e ripeto anche grazie soprattutto alla collaborazione di queste due importanti ditte e ai loro responsabili che questo è stato un evento che posso definire riuscito e credo che non sia senz'altro l'ultimo. Un'iniziativa importante che denota la sensibilità che i centri per l'impiego hanno nei confronti di coloro delle cosiddette categorie protette e che è una sensibilità che viene espressa appunto attraverso il Job Speed Date e attraverso il Joy Club. Job Club. Mi sono confuso tra Joy e Job perché naturalmente il lavoro dovrebbe rappresentare anche una gioia per chi ce l'ha, quindi scusatemi il gioco di parole. Dicevo una giornata importante perché si approfondisce la sensibilità nei confronti delle categorie protette con una serie di iniziative come il Job Speed Date che simula un contratto, che simula quello che dovrebbe essere un colloquio di lavoro e che poi si inserisce però all'interno di altre attività fatte con i fondi regionali per creare la possibilità a questi ragazzi, a questi lavoratori appartenti alle categorie disabili di avere a loro disposizione una serie di tirocini che li possono avvicinare al mondo del lavoro, avvicinare o riavvicinare al mondo del lavoro e che possono quindi far provare le loro capacità in ambito lavorativo. Ricordiamo che purtroppo solo in provincia di Imperia sono oltre 1600 le categorie protette iscritti ai centri per l'impiego, quindi un notevole numero di persone, naturalmente né i centri per l'impiego né quindi la regione Liguria come politiche attive del lavoro può rimanere sorda davanti a questa richiesta di lavoro e di inserimenti lavorativi. Questa quindi fatta qua in provincia di Imperia è un'ottima idea e un ottimo esperimento. Si è svolto quest'oggi un incontro tra l'assessore regionale all'urbanistica Marco Scaioli e gli amministratori locali dei comuni di Pompeiana e Castellaro per discutere dei problemi del territorio. L'assessore era precedentemente intervenuto al convegno Turismi in Riviera presso l'aula magna del pollo universitario di Vianizza ad Imperia per parlare dei temi salienti legati alla direttiva Bolkestein. Imperia TV, dopo un anno di pausa si è nuovamente aggiudicata l'appalto per la ripresa e messa in onda delle sedute del Consiglio Comunale di Imperia, i particolari in un servizio. Dopo un anno di pausa Imperia TV battendo altre tre emittenti genovesi si è nuovamente aggiudicata l'appalto per il servizio di ripresa e messa in onda del Consiglio Comunale di Imperia. Imperia TV riprenderà e manderà in onda indiretta sia le sedute del Consiglio Comunale che le Question Time dedicando alla trasmissione del canale 116 del digitale terrestre. La giudicazione dell'appalto ha validità per un anno con possibilità di rinnovo a pari condizioni per un altro anno. La cifra stanziata dal Comune sulla quale verrà applicato il ribasso offerto da Imperia TV è di 9 mila euro all'anno oltre IVA e oneri per la sicurezza e la sua eseguità considerato l'impegno tecnico necessario per la diretta dimostra la volontà di Imperia TV di continuare a offrire un servizio ai cittadini imperiesi al di là del mero aspetto economico dell'operazione. Le segreterie provinciali del Partito Democratico e dei giovani democratici di Imperia in una nota hanno espresso forte apprezzamento per l'azione portata avanti dal Parlamento sul tema dei diritti civili. Secondo gli esponenti imperiesi del PD con l'approvazione della legge sulle unioni civili l'Italia ha compiuto un passo avanti decisivo che la mette allo stesso livello dei paesi più avanzati su tali tematiche. E anche nel Comune d'Imperia così come in tutti i comuni è possibile firmare per sostenere la presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare volto a tutelare le vittime di furti che reagiscono e si difendono dai ladri. La proposta prevede anche un inasprimento delle pene per i responsabili di furti in abitazioni. Vediamo. Anche nel Comune d'Imperia così come in tutti i comuni è possibile sottoscrivere la raccolta di firme per una proposta di legge popolare volta alla modifica del codice penale per ottenere un inasprimento delle pene per i responsabili di furti in abitazione e tutela per le vittime che si difendono dai ladri. Per poter presentare il disegno di legge occorrono infatti 500.000 firme. La raccolta firme ha avuto inizio lo scorso primo aprile e si concluderà il 25 maggio. Chi volesse partecipare a porre la sua firma si deve recare nel proprio Comune di Residenza, chiedere l'apposito modulo e firmare esibendo un documento di identità valido. L'iniziativa è stata promossa dall'Italia dei Valori e mira a escludere dal codice penale l'eccesso colposo in legittima difesa. In questo caso il padrone di casa che subisce una violazione di domicilio sarebbe legittimato a poter difendere se stesso e i propri beni senza dover subire denunce. Con un'ulteriore modifica si intendono inasprire le pene per chi commette il reato di violazione di domicilio portandole da un massimo di 5 a un massimo di 7 anni nel caso in cui il colpevole sia armato al momento della violazione e dell'aggressione. La proposta di legge inoltre intende negare il risarcimento danni in favore dell'aggressore se dovesse subire lesioni da parte del padrone di casa. Tra gli obiettivi contenuti nel libro bianco per la riforma della sanità regionale c'è la valorizzazione dei professionisti sanitari e quindi degli infermieri che danno un apporto fondamentale per garantire la continuità assistenziale e declinare in modo appropriato i bisogni dei cittadini. Proprio per valorizzare le singole competenze e per adeguarle costantemente ai bisogni dei pazienti intendiamo istituire un tavolo permanente per le professioni sanitarie. Lo dichiara la vicepresidente ed assessore regionale alla salute Sonia Viale in occasione della giornata internazionale dell'infermiere che si celebra in tutto il mondo oggi 12 maggio data in cui nel 1820 nacque Florence Nightingale a cui si attribuisce la maternità della moderna scienza infermieristica. E cambiamo argomento, domenica torna il tradizionale appuntamento con Alta Valprino da scoprire e da gustare. Si tratta di una passeggiata enogastronomica tra i paesi di Prela, Valloria, Tavole e Villa Talla come ci ha spiegato l'organizzatrice. Federica Massetti è l'organizzatrice del mercatino di Prela, ma domenica non ci sarà soltanto il mercatino perché torna Alta Valprino da scoprire e da gustare. Una passeggiata enogastronomica Federica. Si esattamente, ormai è diventata famosa, nata nel 94 e ogni anno è diventato un appuntamento fisso perché piace moltissimo alle persone. In effetti sì, io faccio il mercatino alla partenza dove la gente potrà comunque sostare, fare la spesa, prodotti bio, formaggi, usato, eccetera eccetera, collezionismo, dischi e da lì l'appuntamento è alle 10.30 e si partirà alle 11.30 con un magnifico aperitivo, colazione, chiamiamolo come vogliamo, con tanti stuzzicoli dopodiché si farà il giro di tutta l'Alta Valprino. Si arriverà a Valloria, a Valloria la prima tappa e lì potranno degustare i primi, poi dopo Valloria tavole degusteranno i secondi e l'ultima tappa sarà Villa Talla dove potranno degustare formaggi e dessert e i partecipanti saranno accolti da un'atmosfera festosa, stupenda, il tutto in un decoro meraviglioso. Naturalmente speriamo che il tempo sia bello, anzi dalle previsioni sembra che sia buono, soprattutto al mattino, però nel caso in cui dovesse esserci mal tempo, ma non credo, la manifestazione dovrebbe essere rimandata a settembre. Però promette bene il meteo. Sono state consegnate questa mattina le borse di studio 50 e più Imperia a tre allievi meritevoli dell'Istituto di Istruzione Superiore Ruffini-Aicardi di Armanitaggia. Gli allievi premiati delle classi quinte sono Mattia Dardi per il settore enogastronomia, Valentina Natta per il settore sala e vendita e Cristina Barisone per il settore accoglienza turistica. 50 e più è un'associazione socioculturale di ultra cinquantenni aderente alla Confcommercio. Le borse di studio 50 e più, che vengono assegnate da più di 15 anni agli allievi meritevoli dell'Istituto Superiore Ruffini-Aicardi, sono attualmente dedicate alla memoria di Dario Berlusconi di Bordighera, dirigente Confcommercio e consigliere 50 e più scomparso qualche anno fa. Bene, ora spazio agli appuntamenti di Riviera Eventi, poi la nostra consueta rubrica dell'autostrada dei Fiori e subito dopo ci sentiamo per il quadro meteo. Grazie a tutti. Ecco qui di seguito i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 fra Savone e il confine di Stato. Direzione Francia, carreggiata nord, tra Pietraligure e Borghetto Santo Spirito, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta, fino a venerdì 6 maggio, anche notturno. Tra San Bartolomeo al mare e Imperia Ovest, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta, fino a domenica 8 maggio, anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Imperia Ovest e San Bartolomeo, cambio di carreggiata per adeguamento sismico viadotto Liveto 2, fino a domenica 8 maggio, anche notturno. Tra Borghetto Santo Spirito e Pietraligure, cambio di carreggiata per rifacimento della pavimentazione, fino a venerdì 6 maggio, anche notturno. Secondo le previsioni di Arpal Meteo Liguria, domani, venerdì 13 maggio, la ventilazione da sud-ovest determina condizioni di cielo grigio sulle Levante con deboli precipitazioni sparse che dalla serata risulteranno più estese e potranno assumere carattere di rovescio, soprattutto nelle zone interne. Nuvolosità variabile in intensificazione dal pomeriggio sulle centro ponente, umidità su valori alti, venti tra deboli e moderati dai quadranti meridionali in generale rinforzo dal pomeriggio. Mare a ponente molto mosso, la protezione civile segnala mareggiata residua Levante in calo dalla mattinata fino a molto mosso. Dopodomani, sabato 14 maggio, giornata grigia con nubi consistenti e piogge diffuse al mattino sul centro Levante. Anche a ponente prevarranno le nubi che lasceranno però spazio a fugaci schiarite, soprattutto nel pomeriggio, possibili isolati piovaschi. Umidità su valori alti, venti generalmente deboli dai quadranti meridionali. Mare molto mosso su tutte le coste. Termina qui il telegiornale di oggi. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento su Imperia TV. Arrivederci.